buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale nel breve video di oggi andiamo a vedere insieme che cos'è questo ottimistiche roll up se che è arrivato sui tirino sto parlando di arbitrum layer 2 per l'appunto per quanto riguarda e tiro andiamo a vedere che cos'è come funziona e perché è importante sia per tiro ma soprattutto per il mondo dei file ovviamente dopo la sigla da questo esempio molto semplice per capire che cos'è un layer 1 e un layer 2 per quanto riguarda lei e 1 si intende a una blog chain di riferimento in questo caso dietirium il layer 2 che cos'è è un protocollo che si è integrato di terze parti che viene aggiunta alla blog chain di livello 1 per migliorarlo quindi per renderlo più efficiente ma soprattutto scalabile il layer 2 infatti rimane focalizzato sui tempi di conferma sulle velocità delle transazioni sulle commissioni di gas inferiore gestendo praticamente tutti gli oneri della blog chain principale ovvero in questo caso dietirium ovviamente il layer 2 è in comunicazione con layer 1 ogni tanto si connette né condivide eventualmente la prova di consenso né condivide la sicurezza che rimane in mano al layer 1 l'unica cosa che va alleggerire tutte le transazioni va alleggerire tutto il carico di lavoro se ne prende a carico e le va a migliorare praticamente il roll up e prendere come ho appena detto carico di tutte le operazioni che affaticano la rete che le intasano che aumentano i costi di gestione se ne prendono a carico le migliorano le alleggeriscono e le fanno uscire dal layer 2 qualche mese fa avevo fatto il video sul primo roll up che è uscito che si chiama ottimismo ve lo lascerò comunque in descrizione a fine di questo contenuto oggi andiamo a vedere un attimo che cos'è arbitrum come vedete su questa pagina su questa home page è raggiungibile all'indirizzo porta al punto arbitro un punto one stiamo guardando quali applicazioni decentralizzate si sono già spostate su questo layer 2 sono contrassegnate con la voce live quelle invece con la contrassegnate con la scritta cam in su sono quelle che arriveranno su questo layer 2 in un secondo momento vi ricordo che come per ottimismo si può interagire con questo layer 2 con le dap che funzionano già quasi completamente utilizzando questo layer 2 per un prelievo totale proprio come per ottimismo ci vuole al momento una settimana ovviamente questo tempo si andrà a ridurre nel corso dei giorni apro e chiudo questa parentesi vedo già online diversi airdrop vedo online diversi token che si spacciano per arbitrum mi raccomando ricordatevi che questo layer 2 al momento non ha nessun token nativo non è listato da nessuna parte il token nativo di arbitro non esiste non sappiamo se mai esisterà quindi attenzione a questi finti token al momento attuale dalla registrazione di questo video mi pare che solo cripto puntocom via già la possibilità di interagire con depositi e prelievi su questo layer 2 man mano che passeranno i giorni e le settimane tutti i grandi che change seguiranno questa scia e integreranno la possibilità di prelievo e di deposito verso arbitrum al momento per poter interagire per poter passare da una cena all'altra bisogna usare un consueto bridge sulla pagina arbitro un punto io scendendo un pochettino vedete che trovate la voce bridge quindi cliccando col tasto sinistro su bridge si apre questa schermata per nient'altro che il bridge per utilizzare questo bridge bisogna interagire con meta masche e settare meta masche anche per questo layer 2 che è semplicissimo se non l'avete ancora settato basta che cliccate su connette to my net qualora non l'abbiate registrato su meta masche in automatico prenderà le impostazioni e vi verrà settato qualora aveste già settato meta masche su arbitrum vi permetterà di switchare da una cene all'altra vi faccio l'esempio collegandolo direttamente con meta masche nativo rete tiro voglio speciale sulla rete arbitro basta che clicco qua sopra vedete che in automatico mi chiede lo switch io confermo switch network e al momento il mio meta masche è collegato su arbitrum per tornare alla rete e tiro basta andare su meta masche alla voce rete e andare a ricliccare su rete principale e tiro da questa schermata comunque vediamo quanti e tiro ci sono caricati nel nostro wallet di meta masche e quanti anche token rc 20 si trovano all'interno del nostro meta masche qualora non risultasse anche un token disponibile ma noi ne avessimo in diverse quantità all'interno di meta masche basterà andare su aggiungi token inserire l'address del token e verrà caricato all'interno di questo bridge al momento interagire con le dapp su arbitrum e questi passaggi sono un pochino più dispendiosi fi che non avremo i nostri tiro i nostri tocchi all'interno delle year 2 perché facendo da ponte tra rete e tiro un layer 1 e layer 2 si va a pagare la commissione in e tiro non appena gli exchange come ad esempio by nasco coin o gli exchange che usiamo abitualmente supporteranno completamente arbitrum prelievi e depositi avranno veramente costi quasi a zero nel caso di pieno supporto dell'exchange noi non andremo più a utilizzare questo ponte in questo caso supponiamo di voler a depositare da layer 1 layer 2 non ci resta a far altro che andare inserire quanto vogliamo depositare cliccare su deposita si apre la schermata di consenso della transazione di meta masche vedete per un totale di 40 dollari bridge arbitri un punto io fi 21,03 dollari in questo caso ovviamente non voglio fare una transazione del genere e quindi annullo ma nel caso volessimo spostarle in quel caso basterebbe cliccare su conferma e i nostri e tiromo i nostri token dal layer 1 verranno trasferiti al layer 2 ovviamente facendo uno spostamento del genere noi non troveremo più i nostri token il nostro e tiromo sulla rete principale bisognerà fare lo switch sulla rete arbitrum e li troveremo depositati qua dentro per ritrasferire e tiromo i token all'interno del layer 1 è semplicissimo con il nostro meta masche settato con arbitrum ci colleghiamo a questo bridge in automatico qua vedremo il nostro importo in e tiromo o i nostri token andremo a inserire il quantitativo di tiromo di toche da prelevare cliccheremo sui dro e li ritroveremo sul layer 1 mentre il trasferimento di tiromo di toche dal layer 1 al layer 2 ci vuole circa 10 15 minuti vi ricordo che il trasferimento dal layer 2 al layer 1 ci vogliono circa sette giorni di tempo al momento mi raccomando ricordatevi di questa cosa se volete interagire con questo bridge bene siamo arrivati alla fine del nostro consueto appuntamento spero che il video vi sia stato utile lo abbiate trovato di facile comprensione vi invito ad iscrivervi al canale qualora non lo abbiate ancora fatto e donire la nostra community telegram per fare due chiacchiere insieme a noi per rimanere aggiornati sulle novità che accadono durante il giorno e per ricevere l'assistente di cui avete bisogno mi raccomando ci vediamo domani